L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca, questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino? Io mi divertirei di più a giocare a pallone, sinceramente, però si frenesce prima poi. A me mi è piaciuta l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che poi comincia a fare cinema. Fai il tifo per il Napoli? Io faccio il tifo per il Napoli. E Maradona? Che cos'è per te Maradona? Maradona è un grande giocatore, il più grande giocatore del mondo, secondo me. E basta, perché poi rispetto ai polemiche io non so come stanno le cose, veramente. Quindi mi pare assurdo mettersi a dire uno, l'altro, ma chi le prende tanti soldi e poi invece non va? Vabbè, però prende tanti soldi, è il più grande giocatore del mondo. Io ti fido sempre di chi paga tanti soldi senza essere il più grande giocatore del mondo. E tu invece al cinema Massimo Troisi? Sempre. Ma ti piace? Sì, sì, mi piace moltissimo. Allora, però questa dichiarazione andrò qui a tutti i voti. È vero, le battute sono le uniche, veramente.